Gentili telespettatori, buona giornata! Irrompe la polizia durante la prima assemblea del nuovo partito di Vittorioni e Sgarbi. Ma cosa è successo, povero Vittorio, ma sempre con lui ce l'hanno. Uno dei pochi veri grandi politici che ha l'Italia, no? Il grandissimo Sgarbi. Io lo ricordo ai tempi della scuola, quando tornavo a casa e c'era Sgarbi quotidiani. Quella mezz'ora di questo leggendario personaggio. Andiamo alla notizia. Non è finita bene la prima assemblea che si è tenuta al Parco dei Principi. Mi sembra che ci sono stato in questo albergo Parco dei Principi a Roma. L'assemblea di rinascimento, il partito di Vittorio Sgarbi che correrà da solo alle prossime amministrative, né con il centrodestra né con il centrosinistra, anche perché queste due coalizioni fanno veramente ridere i polli. Le liste a rinascimento saranno presenti in 70 comuni e dentro ci saranno persone coraggiose che hanno avuto ragione nei tribunali d'Italia su tutta la linea perché ritenevano ridicolo aprire i ristoranti dalle 5 del mattino alle 18. Eh? Tutte le multe erano illegittime. Abbiamo vissuto in uno stato illegale voluto da un governo che ha stabilito misure senza senso. Ho capito, hai ragione Sgarbi, ma mi fai un partito sui ristoratori che hanno preso le multe. È un partito che può funzionare forse adesso, avrai qualche voto, ma il partito dei ristoratori che hanno preso le multe è che futuro ha. Fra tre mesi la gente si è già dimenticata del covid. Funziona così. Quindi, ammiro Sgarbi. Sono d'accordo con lui che le multe erano illegittime, ma che mi fai il partito dei ristoratori, praticamente dei ristoratori coraggiosi, a me. ma varana strum, 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 strum. E infatti, strum, struppen, infatti riporta il Corriere della Sera, con Sgarbi ci sono Momo e l'Aiwi, che non so chi sia, e Umberto Carriera, che non so chi sia, dice i due leader di Io apro, i quali all'inizio dell'evento inscenano una protesta. Tanti di loro, infatti, non hanno il Green Pass e per questa ragione non possono varcare l'ingresso dell'albergo. Quindi Momo sbotta e dice, centinaia di persone sono sprovviste di Green Pass, porteremo le sedie fuori dal parcheggio. E così tutti escono con una sedia, ma lo staff le ferma e dice, no, no, ridateci le sedie e poi non potete occupare il suolo pubblico. Arriva la polizia, favorite i documenti. Alle 15 arriva anche Sgarbi, che cerca di placare gli animi. Boni, boni, la legge va rispettata, dice Sgarbi. Ma pochi in sala portano la mascherina. Quindi il partito di no mask, no Green Pass, no Alpitur, ai 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 ai, arriva Sgarbi e dice, fermi tutti. No, non ha detto mani in alto, ha detto fermi tutti, la legge va rispettata. Bene, vabbè, vi ho raccontato sta roba qua, che è così. Ma rimaniamo in tema Covid. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, dice Omicron 2 è diventata dominante. Hans Klug, che è direttore dell'OMS per l'Europa, si è detto però ottimista, ha detto l'ottimismo e il profumo della vita. Dice, ha elencato tre fattori molto importanti. Secondo quanto affermato dall'OMS, la variante Omicron 2 è ormai diventata dominante a livello globale. Come ha scritto l'organizzazione OMS nell'ultimo rapporto settimanale sulla pandemia, negli ultimi 30 giorni la variante BA.2, detta Omicron 2, è diventata predominante. Con l'85,96% sulla piattaforma G-Side. Vabbè, insomma, tutti i nomi un po' tecnici. La Delta è ormai allo 0,1. La Delta è scomparsa, quindi ne proclamiamo la sua scomparsa. Ciao Delta, che non è il deltone degli anni Ottanta, ma la variante Delta, la salutiamo. Ha preso il sopravvento, è divenuta dominante la BA.2, detta Omicron 2. Questa tendenza è più pronunciata nelle regioni del sud-est asiatico, seguita da Mediterraneo orientale, regione africana, Pacifico occidentale, regione europea, praticamente del mondo. BA.2 è attualmente dominante nella regione delle Americhe. Claudio Mastroianni, che non credo sia parente dell'attore Marcello, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, la CIMIT, è ordinario di malattie infettive dell'Università della Sapienza di Roma, ha detto alla DN Cronno Salute che la variante Omicron 2 ha preso quindi il sopravvento su Omicron. Allora, la Omicron 2 è una sottovariante di Omicron, quindi, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ha anche aggiunto che i soggetti sottointesi che non hanno ricevuto ancora l'inoculazione del vaccino anticovid sono quelli che in caso di contagio rischiano maggiormente un quadro clinico severo e anche di essere ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Mentre coloro che sono invece, lui dice, immunizzati non hanno particolari conseguenze e aggiunge l'alto tasso di reinfezioni che stiamo registrando con Omicron 2 anche in chi è immunizzato con tre dosi. Ci induce a pensare che la risposta immunitaria sia inferiore rispetto a Delta. Ma comunque il booster va fatto, che non è un motorino della Malaguti, va fatto perché è l'unico strumento che ci mette in sicurezza della malattia severa. Quindi lui dice il tasso. C'è un detto che dice non ti fidare del tasso. Basso. Ecco, i tre fattori che ci fanno ben pensare. Però, quali sono questi tre fattori? Prima di tutto, adesso in mondo c'è un'alta percentuale di immunità. Immunità? Tra coloro che hanno ricevuto il vaccino e chi invece ha contratto il virus. Il secondo elemento è invece legato alla stagionalità. In quanto l'inverno è ormai terminato e con l'arrivo della bella stagione le persone cominceranno a vivere all'aria aperta e non in ambienti chiusi nei quali il virus, come dice Giggino, ha maggiore possibilità di diffondersi. Terzo e ultimo punto è il fatto che la variante Omicron 2, meglio la sottovariante, risulti essere più leggera nelle persone che hanno completato l'intero iter vaccinale, terza dose inclusa. Klug ha però ricordato che nei paesi con bassi tassi di vaccinazione è ancora una malattia che è seria, severa. Bene. Salutiamo i ragazzi della Via Klug e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti, salutiamo anche il Vittorione Sgarbi. Boni, boni, la legge va rispettata. E vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie.